Guerriglia parlamentare? Assolutamente no, la guerriglia, la fronda, i frondisti, tutte cose che possono essere calibrate su misura perché si nasconde per chi opera nell'ombra. Noi le nostre posizioni le stiamo sostenendo apertamente da sempre e lo stiamo facendo anche in questa circostanza. Quindi noi non siamo una fronda, magari siamo un fronte antideriva, stiamo cercando di tenere la posizione del nostro partito e di tantissimi elettori che non capiscono in che direzione stiamo andando. Grazie.